Pace e buongiorno, desidero condividere con voi un verso nel Salmo 51 che dice O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Questo è il desiderio di Davide, il bisogno che lui aveva nel suo cuore di essere perdonato, di essere rinnovato e di essere liberato dai propri peccati. E la parola di Dio dice in Prima Pietro perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. E questo deve essere il nostro desiderio di chiedere a Dio di perdonarci e purificarci da ogni peccato. E questo possiamo ottenerlo soltanto per mezzo e nel nome del Signore Gesù Cristo. Lui è il nostro Avvocato e Redentore. Dio ci benedica.